Le lasagne fritte, lei ne hai viste? Se la risposta è no, sei in giro per Padova Centro Vanno a provare, ma stai attento a questo spiedo scocciolante di sapore Potrebbe tentarti all'interno di un panino insieme alle melanzane e formaggio un po' di piccante Per non parlare di questo con il cotechino, il creme, la salsa verde, il cavolo cappuccio Masto paninazzo con la trippa, il video fino alla fine per scoprire il nome del posto Sono veramente forti con i panini Ma il loro punto di forza sono le lasagne Belle condite e stratificate E ne hai per tutti i gusti Siamo da Casabarozzi in centro a Padova Mi raccomando mettete mi piace, legate un amico sui commenti Grazie